Chi ha la Bibbia può prendere Coelet 3,19? Io non so se ciò che c'è scritto qui è vero, però dobbiamo sapere che questo è scritto. Infatti la sorte degli uomini è la stessa di quella degli animali. Come muoiono questi, così muoiono quelli. Questa è una Bibbia di famiglia cristiana, non le mie traduzioni. Gli uni e gli altri hanno uno stesso respiro, soffio vitale, senza che l'uomo abbia nulla in più rispetto all'animale. Gli uni e gli altri sono vanità, essi vanno tutti verso lo stesso luogo, gli uni e gli altri vengono dalla polvere, gli uni e gli altri tornano alla polvere. Così ha compreso che non c'è alcun bene per l'uomo se non che egli goda di ciò che fa, perché questo è il suo destino. Nessuno infatti lo porterà a vedere ciò che accadrà dopo di lui. Questo è scritto nella Bibbia. Allora, dopo di che possiamo dire che la Bibbia parla di spiriti, di anima, di tutto quello che ci viene raccontato. Però ciò che ci viene raccontato noi lo dobbiamo ascoltare sapendo ciò che c'è scritto. Perché altrimenti ascoltiamo solo quello. Ma così è scritto. Dopodiché, chi ha scritto il coelete era un ignorante, benissimo, non è un problema per me. Non è un problema. Però allora diciamo che la Bibbia è stata scritta anche da ignoranti. E sicuramente se esiste l'anima questo non l'ha ispirato Dio, no? Ok? Ma allora cosa facciamo? Ci mettiamo lì e diciamo questo versetto l'ha ispirato Dio, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Allora, o la Bibbia l'ha ispirata Dio o, come è evidente, la Bibbia è un lavoro di decine, decine di uomini. Ma questo è scritto. L'uomo e l'animale sono uguali, finiscono nella polvere. L'uomo e l'animale sono uguali, finiscono nella polvere.